Gli impianti che serviranno alla didattica, caldaie, pompe di calore e condizionatori di ultima generazione, sono già stati in parte montati su pannelli in legno movibili posizionati nei laboratori della scuola. Presto gli studenti del Guglielmo Marconi si cimenteranno qui, assieme ai tecnici della Daikin, la multinazionale giapponese la cui divisione italiana ha stretto un accordo di collaborazione con l'Istituto Professionale di Via Galcianese. Nei laboratori del Marconi avrà sede un centro di formazione permanente della Daikin che sarà inaugurato ufficialmente il 24 di novembre. Qui i tecnici dell'azienda avranno un punto di riferimento per la loro formazione in orario extrascolastico, ma soprattutto saranno a disposizione per l'aggiornamento dei docenti e degli studenti. La collaborazione sarà di ampio spettro e darà ai diplomati del Marconi possibilità di inserimento nel mondo del lavoro e di assunzione diretta in Daikin. Quest'anno per esempio partiranno tre corsi per i nostri studenti di termotecnica, un corso proprio di termotecnica generale per le classi quarte e due corsi, uno sulla pompa di calore che riguarderà anche i meccanici e gli elettronici ed un corso sulla climatizzazione da parete. Quindi quest'anno partiranno tre corsi e verrà fatto una specie di campionato di selezione per gli studenti. Gli studenti migliori andranno a Genova a fare degli ulteriori stage e poi verranno assunti dalla Daikin. L'accordo tra Daikin e Marconi è ancora più importante se si considera che il settore dell'installazione e manutenzione di impianti termoidraulici è in rapida evoluzione dal punto di vista tecnologico ed offre buone opportunità di lavoro. Il rapporto è veramente un ottimo rapporto da entrambe le parti. Noi perché abbiamo gli ultimi modelli sempre aggiornati delle macchine e loro perché possono aggiornare nelle nostre strutture i loro tecnici ed avere poi i ragazzi migliori per assumere. Grazie. 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 Grazie.